In via di Fagiana, su Darno la gente ha preso tanto ghiaccio, uno di questi era Buo Nero che faceva le sceglie. Noi siamo convinti che qui ci sia la gente di Ravenna, noi ne si dice che le sceglie sono lavannoti nell'anguille. E sono sceglie, le 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 sceglie. Però le sceglie sono vietate e quest'uomo Buo Nero ha rischiato la galera e dal ponte lo chiamava Nossi. Le vedi? Non è che si te la fassano? Ascolta Buo, senti, io torno più tardi, copriti e ghiaccio, sentivi che lavori, ma muove qualcosa via. Ascolta, ma su dopo è? Wow, ma al mondo c'è le guardie e ghiaccio, copriti!